Il Mediviniteli può senz'altro dire la sua, abbiamo avuto sicuramente dei partecipanti di grande livello con dei prodotti qualificati dal punto di vista della qualità e dell'aspetto anche funzionale delle bellissime proposte, sicuramente molto interessanti e che abbiamo discusso e valutato insieme sotto diversi profili è stata un'esperienza molto interessante questo percorso